Suoi intensioni, proprio, profondi, ma anche di tutti noi insieme a lui, a lei, ma anche tutti quelli che non sono presenti ma che fanno parte della comunità, che si sono fatti presenti, in un modo una lettera, un messaggio, un altro, un'altra, 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 un'altra. Il silenzio e il silenzio Noi ti rendiamo grazie, Dio Omnipotente, che hai creato l'uomo per la gioia e la vita immortale. Tu ci doni la certezza che un giorno sarà asciugata ogni lacrima e ricompensata ogni fatica sostenuta per il tuo amore. Benedici tua figlia, Maria Pia, giudici, che nella piena adesione alla tua volontà, con i suoi fratelli e le sue sorelle, ti invocano mediante l'intercessione di San Girolamo, perché che sia preservata, liberata da male, da ogni male, e confermata nella grazia del tuo spirito. Glorifichino con le sue sorelle e fratelli in parole e opere il tuo santo nome. Per Cristo, nostro Signore, amici, e la benedizione di Dio Omnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di te e con il tuo con te rimanga sempre. Amén. Grazie. Grazie. Grazie.